E siamo all'appuntamento quotidiano con le pilole di libri nel Borgo Antico, la rassegna dedicata alla lettura e ospitata nella città di Biceglie. Oggi ascoltiamo l'intervista a Paola De Marza, autrice del libro Imparare Meditando, manuale per foramare ragazzi sereni. Un libro al giorno incontra Paola De Marza, autrice del libro Imparare Meditando, manuale per foramare ragazzi sereni, edizioni dal sud. Questo è una guida pratica per imparare, per provare a sperimentare una nuova tecnica di meditazione nella scuola. Sì, in realtà è una strategia didattica che porto avanti ormai da oltre vent'anni nelle scuole, perché comunque io sono una docente di lettere, che però ha sempre creduto nel potere della meditazione come un viaggio all'interno di noi stessi, che può veramente servire non solo agli adulti, ma anche ai ragazzi ad affrontare veramente il mondo in maniera diversa. In realtà appunto è un viaggio la meditazione, è un viaggio che facciamo all'interno di noi stessi, e soprattutto nei confronti di questa generazione credo che sia un viaggio necessario che i ragazzi debbano compiere. È un progetto in cui ho sempre creduto, e in realtà il libro racchiude proprio vent'anni di sperimentazioni che ho realizzato nelle scuole, iniziando prima chiaramente a sperimentare la meditazione da su di me, e poi piano piano ho portato questo progetto all'interno delle scuole con grandissimi risultati. Grazie a Paola De Marzo, autrice del libro Imparare meditando, manuale per formare ragazzi sereni, edizioni dal sud. Grazie anche a Libri nel Borgo Antico, la rassegna letteraria che si tiene ogni anno a Biceglie nell'ultimo weekend di agosto. Appuntamento al prossimo libro. Grazie a tutti.